Un problema interessante che riassume in sé molte delle grandezze che sono collegate con la densità, la massa, il volume, il peso. Questa volta vogliamo, prima di iniziare a cercare la soluzione, vedere una strategia risolutiva. E in genere, quando non si sa bene da dove cominciare, si parte dal fondo. E quindi partiamo da ciò che viene chiesto. Il testo chiede quanto pesa sulla Terra una sfera di rame di diametro 10 cm. Ora, se io voglio determinare il peso, so che ho bisogno di due dati. Uno è la massa della sfera. L'altro è la costante di gravità sulla Terra, che noi conosciamo, 9,81 N su chili. Il problema adesso si riconduce a determinare la massa. Ora, la massa sappiamo che è legata al volume e alla densità dalla definizione stessa di densità, D uguale M fratto V. Quindi, quando io conoscessi la densità del materiale, cosa facile, perché basta andare a consultare una tabella, e il volume della sfera, potrei calcolare la massa e quindi il peso. Ma il volume come si trova? Il volume si trova grazie alla formula del volume della sfera, che richiede la conoscenza del raggio. Ora, noi abbiamo il diametro, ma sostanzialmente sappiamo anche che il raggio della sfera è 5 cm. Dunque, avendo analizzato il problema, diciamo, in maniera top-down, cioè dall'alto al basso, adesso la soluzione la ripercorriamo dal basso in alto. Quindi il nostro scopo sarà, prima di tutto, di calcolare il raggio, quindi il volume. Con volume e densità calcoleremo la massa. Con la massa e la costante di gravità calcoleremo il peso. Prima di tutto andiamo però a vedere quanto vale la densità del rame e scegliamone una unità di misura conveniente. La densità del rame è 8.900 kg a metro cubo. Quindi questo dato è uno dei dati del problema. Ecco allora come possiamo sintetizzare il problema. La densità del rame è 8.900 kg a metro cubo. Il raggio della sfera è 5 cm. La richiesta è quanto vale il peso. Ora facciamo attenzione alle unità di misura. Noi potremmo benissimo esprimere il raggio della sfera in metri, ma otterremo un numero molto scomodo da utilizzare o se non altro dovremmo utilizzare la forma scientifica. È molto più semplice utilizzare per la densità un'unità di misura che vada d'accordo con i centimetri. Ad esempio noi sappiamo che 8.900 kg a metro cubo può essere immediatamente trasformato in 8,9 g al centimetro cubo. Questa potrebbe essere un'unità conveniente almeno fino a un certo punto. Dunque iniziamo con i calcoli. Per prima cosa abbiamo detto dobbiamo calcolare il volume della sfera. 4 terzi pi greco raggio al cubo. Sostituendo 4 terzi pi greco 5 centimetri al cubo. Andiamo a calcolarlo. Abbiamo 4 diviso 3 per pi greco per 5 centimetri al cubo. 125. Il risultato è 523,59, diciamo, 6 centimetri cubi. Ora che abbiamo determinato il volume possiamo calcolare la massa della sfera. Ricordiamo che volume, massa e densità sono collegati da questa formula la cui formula inversa è m uguale d per v. Perciò, moltiplicando la densità 8,9 g al centimetro cubo per il volume 523,6 centimetri cubi si otterrà il valore della massa. Quindi questo valore per 8,9 mi dà 4660 grammi. Ora facciamo attenzione. Per calcolare il peso dovrò utilizzare la formula P uguale m per g. ma le unità di misura di g sono obbligate sono newton fratto chilogrammo per cui mi conviene inserire la massa non in grammi ma in chilogrammi. Quindi 4660 grammi sono 4,660 chilogrammi per 9,81 newton fratto chilogrammo. Chilogrammo si semplifica e quindi 4,66 per 9,81 fa 45,7 e questi sono newton. Prima di concludere valutiamo se questo risultato è plausibile, corretto. Abbiamo una sfera di diametro a 10 centimetri ci sta nel palmo di una mano però è di rame quindi un materiale piuttosto massiccio normale che la sua massa sia dell'ordine dei 4,5 kg e dunque il suo peso sia questo.